Gamba sinistra C'è Rinaldo che fa il centravanti adesso, aspetta il cross Eh sì, Maggio Di testa, il pareggio di Dennis Incredibile, 2-2 Incredibile Incredibile quello che è successo stasera qua a San Paolo In area di rigore abbiamo visto Il Milan soffre, soffre terribilmente Sul cross di Maggio Anticipa Tiago Silva e mette il pallone in porta Beh, in base a quello che abbiamo visto in questo secondo tempo Sì, vai giù È meritato perché